Agosto 2014, il presidente del Consiglio Matteo Renzi. L'Italia ha le condizioni per ripartire in modo straordinario. È già ripartita, è già ripartita. Novembre 2015, il commissario europeo agli affari economici, Pierre Moscovici. E la ripresa economica c'è e continuerà nel 2016, nel 2017. Beh, ma non te ne sei accorto? La ripresa c'è. La ripresa c'è. Non te ne sei ancora accorto? La ripresa c'è. Eh, sì, solo per la Germania. La notizia arriva dal Sole 24 Ore dell'11 aprile 2016, dove si evidenzia che solo la Germania ha superato i livelli pre-crisi. Il dato emerge da un'interessante ricerca elaborata dal Centro Studi Sintesi, che ha preso in esame 10 stati dell'Unione Europea confrontati sulla base di 8 indicatori. PIL, consumi delle famiglie, investimenti, produzione industriale, prestiti alle imprese, debito pubblico, povertà ed esclusione sociale, numero di occupati. Ebbene, sulla base di questi indicatori solo la Germania avrebbe superato i livelli del 2007. Per tutti gli altri si resta sotto. Dalla Francia alla Grecia, maglia nera, e sai che novità, passando per Olanda, Regno Unito, Finlandia, Portogallo, Irlanda e Spagna. E l'Italia? Beh, anche l'Italia non è messa bene purtroppo. Infatti, nonostante si noti tra il 2014 e il 2015 un lievissimo miglioramento, che che ne dicano governanti o commissari europei, la ripresa sembrerebbe essere ancora lontana.